salve sono patrizia char la teacher che vi accompagnerà durante questo corso di photoshop per il fotografo parliamo di post produzione più efficace con tecniche alternative in questo corso ci occupiamo di problemi nati con lo scatto che però dobbiamo risolvere in post produzione ora vedremo come risolvere questi problemi rivedendo però un po le tecniche essenziali io vorrei proporvi tecniche nuove tecniche aggiornate e migliorate per migliorare sempre di più la vostra immagine poi affronteremo subito all'inizio problemi di composizione ritaglio è importante conoscere concetti di simmetria di ripetizione ma soprattutto anche di regole terze di sistemi di ritaglio che sono fondamentali per trasformare un'immagine qualsiasi in una bella immagine in modo oggettivo e pensato e per questo bisogna appunto conoscere queste regole sapere come applicarle per fare sì che alla fine il ritaglio sia quello che trasformi poi l'immagine in una bella immagine poi parleremo anche di composizione in senso di separazione di elementi è molto importante saper creare una composizione in questo senso a volte abbiamo immagini con tanti elementi dove nulla è focalizzato realmente dobbiamo conoscere le tecniche per fare sì che abbiamo oggetti in primo piano e sfondi quello che devono essere sfondi qui ci sono diverse idee diverse tecniche che avrò il piacere di sottoporvi un altro argomento molto importante è il problema del rumore quando il rumore c'è è difficile a volte eliminarlo e qui non basta solo utilizzare un filtro ma a volte bisogna utilizzare più filtri soprattutto in situazioni di dove l'iso è molto elevato e dove il rumore è molto forte si richiede tecniche e abilità particolare per fare sì che l'immagine alla fine sia più che accettabile e poi naturalmente un grande argomento è quello delle luci contro luci ombra e così via il nostro occhio eccezionale nell'adattarsi a qualsiasi situazione di luce non così la macchina fotografica ecco che a volte ci troviamo con degli scatti veramente in contraluce oppure molto scuri perché scattati all'interno qui ci sono tecniche varie e multiple sia in photoshop che in adobe camera raw che avrò il piacere di presentarvi per fare sì che anche questo problema riusciamo eliminarlo tranquillamente dai nostri scatti e poi ovviamente parleremo di correzione colore dovremo vedere come correggere colore come trovare il bilanciamento del bianco neutralizzare l'immagine osservando gli istogrammi studiando gli istogrammi utilizzando i numeri per fare sì che un'immagine alla fine sia veramente neutralizzata e vi farò vedere anche una tecnica molto bella in lab che sarà molto efficace ma anche molto veloce da applicare e poi infine parliamo di nitidezza la nitidezza è molto importante prima dell'output vi farò vedere tecniche di nitidezza classica ma soprattutto vi farò vedere tecniche nuove molto belle fantastiche come risultato ho realizzato un set di azioni per poter applicare questi tipi di nitidezza in varie occasioni e vedrete che l'immagine acquisterà veramente un valore aggiunto con questo tipo di nitidezza dunque sarà sicuramente un argomento molto interessante e dunque questo corso è adatto a qualsiasi fotografo perché ognuno troverà dei consigli troverà degli spunti delle tecniche nuove oppure delle soluzioni nuove per fare sì che le proprie immagini possano di volta in volta migliorare a questo punto non mi rimane che augurarvi una buona visione e soprattutto una buona post produzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti